Ci siamo poi incontrati e abbiamo deciso di mettere mano alle roncole e riaprire, mantenere i sentieri percorribili. Da quando siete attivi? In questi anni quanti sentieri avete ripulito? L'associazione è nata il 15 ottobre del 2015. Siamo il soggetto che si cura del monitoraggio e della manutenzione di questi sentieri. Perciò è un impegno anche normativo che ci siamo presi, oltre che il tempo che ci mettiamo in quanto siamo tutti volontari, perciò quando possiamo e come possiamo. Però nel primo anno 18 chilometri e 700 metri di sentieri abbiamo ripuliti e ci siamo anche ritornati sugli stessi percorsi, perché ricordo c'era stata la tromba d'aria del 14 ottobre, che i sentieri di Punta Manare li ha devastati, quindi siamo ritornati, li avevamo già puliti a giugno. L'incendio che c'è stato a settembre, anche quello ha distrutto della segnaletica e il lavoro che abbiamo già fatto fino a Monte Moneglia. Ci si ritorna perché in ambito mediterraneo le pressioni antropiche dirette o dirette comunque ci sono, e perciò la manutenzione è un impegno gravoso, insomma, ma cerchiamo di mantenerla. Avere un'associazione di questo tipo che ci aiuta a manutenerli è davvero un elemento di grande importanza. Un territorio ferito, quello di Sestilevante, negli anni, ultimo episodio, l'incendio di settembre, che ha interessato ancora le pendici di Punta Baffe. A che punto siamo con il ripristino, comunque il recupero di questo territorio? Ma lì c'è stato un intervento quasi immediato con la pulizia di alcune parti e con la riapertura e il ripristino di alcune percorrenze, di alcune strade tagliafuoco, soprattutto nella zona di Casagio, lì che erano state occluse dall'incendio. Sta andando avanti il lavoro di ampliamento del consorzio forestale che opera proprio in quella zona, e il Comune sta supportando questo percorso per poter presentare un progetto nei fondi PSR che la Regione bandisce, quindi per poter intervenire con un lavoro di risistemazione e piantumazione se si otterrà il finanziamento, ma lo sapremo a breve, nei prossimi mesi, in modo da ripristinare almeno buona parte delle zone colpite.